Salve a tutti e ben ritrovati per questo nuovo video. Oggi andrò a mostrarvi un'apertura che mi ha veramente impressionato per la facilità con cui si vincono le partite. Il bello di questa apertura è che vi può capitare di giocarla molto di frequente e inoltre potete giocarla anche ad alti livelli. Prima di partire ringrazio tutti quelli che si stanno iscrivendo al canale in questi giorni. Ovviamente rinnovo l'invito di iscrizione a chi non è ancora iscritto e iniziamo. L'apertura che andrò a mostrarvi oggi è un attacco derivante dalla partita spagnola quindi dopo E4, E5, cavallo F3, cavallo C6, alfiere B5. Qui il nero gioca pedone A6 che come vedete nel database è la mossa più giocata in assoluto. Noi rispondiamo con alfiere A4 e il nero risponde con cavallo F6 che di nuovo è la mossa più giocata in assoluto. Infatti questa è la linea principale dell'apertura spagnola. A questo punto io consiglio di giocare la mossa donna E2. Rientriamo nell'attacco Wormald. Vi assicuro che l'apertura può essere veramente devastante per il vostro avversario. Infatti è piena di tatticismi, piena di trappole e in alcuni casi ci permettono proprio di vincere in poche mosse. Qui ad esempio andiamo a prendere la mossa più giocata del nero che è B5. Rispondiamo con alfiere B3 e qui di nuovo prendiamo la mossa più giocata che è alfiere E7. Ok a questo punto la mossa che vi consiglio è quella di giocare A4. Tra l'altro con A4 minacciate subito di guadagnare materiale se il nero non sta attento. Ad esempio se il nero qui dovesse arroccare ovviamente segue A per B5. La torre come vedete è isolata quindi il nero non può catturare il pedone altrimenti perde la torre. Ecco quindi che già il vostro avversario deve stare molto attento ma ovviamente dopo A4 qui le mostre più giocate in assoluto sono B4 e torre B8. Ora andiamo a vederle entrambe. Iniziamo proprio da B4. Qui consiglio una variante molto aggressiva e promettente che ci porta quasi sempre ad avere partita vinta. La mossa che consiglio è quella di giocare D4. A questo punto la cosa che mi ha fatto più impressione è che le prime quattro mosse più giocate in questa posizione sono tutte perdenti. È incredibile. Questo significa che il nero non sa assolutamente cosa fare in questa posizione. Ma vediamole una ad una partendo proprio da quella più giocata. Quindi come vedete queste sono le mosse più giocate partiamo proprio da D6 e vediamo cosa succede dopo D6. Se il nero dovesse giocare D6 abbiamo già subito partita vinta dopo la mossa donna C4. Questo è veramente incredibile. Andiamo a minacciare il cavallo in più minacciamo di guadagnare il pedone in F7. Ovviamente il nero non può arroccare altrimenti perde un pezzo e chiaramente se decide di salvare in qualche modo il cavallo con donna D7. Giochiamo donna per F7 scacco e dopo re D8 donna per G7. E il bello è che in questo caso la torre non può neanche attaccare la donna poiché segue alfiere per torre. Quindi abbiamo partita completamente vinta già dopo la mossa D6 che come vedete è la mossa più giocata. Ok prendiamo invece la seconda mossa più giocata che è E per D4 ovvero la cattura di pedone. A questo punto giochiamo pedone 5 e qui il problema del nero è che il cavallo non ha case buone su cui andare. Vediamole infatti tutte. Ad esempio quella più logica è quella di giocare cavallo G4. A questo punto segue donna E4 attaccando il cavallo. Questo cavallo deve essere difeso quindi H5. Noi proseguiamo con H3 attaccandolo di nuovo e dopo cavallo H6 giochiamo donna D5. E vedete che già stiamo per catturare il cavallo in H6 e poi dare scacco matto in F7. Vi assicuro che il nero non può fare assolutamente niente per impedire il nostro attacco. Infatti ad esempio dopo arrocco segue alfiere per H6 e dopo G per H6 come vedete il nero si è indebolito l'arrocco e dopo cavallo D2 abbiamo più 3 di vantaggio. Praticamente posizione già vinta qui. Quindi dopo E5 vediamo anche la mossa cavallo G8. Questa peggio che mai. Possiamo giocare donna C4 minacciando subito scacco matto in una mossa e non c'è modo di fare niente per il nero. Ad esempio su D5 il nero perde un pezzo dopo donna per cavallo. Mentre su cavallo H6 ovviamente segue alfiere per H6 e dopo arrocco unica mossa. Alfiere F4 salviamo l'alfiere abbiamo un pezzo in più e posizione completamente vinta. Quindi dopo E5 rimane ancora la mossa cavallo H5 ma anche questa non ha speranze. Infatti dopo cavallo G5 abbiamo partita completamente vinta. Cavallo G5 tra l'altro una bellissima mossa. Qui la variante è praticamente forzata. Alfiere per G5. Donna per H5. Minacciamo scacco matto e l'alfiere in G5. Quindi il nero deve difendersi dal matto con donna E7. Segue donna per G5. Dopo il cambio di donne ad esempio rimaniamo con un pezzo in più. O comunque abbiamo già un pezzo in più in questa posizione. Quindi anche la seconda mossa più giocata non è niente di speciale dopo D4. Prendiamo invece la terza mossa più giocata che è cavallo per D4. Questa non è neanche tanto male per il nero ma il bianco sta comunque meglio. Qui proseguiamo con cavallo per D4 e dopo pedone per D4 giochiamo E5. Con E5 ritorniamo punto e a capo. Questo cavallo non ha case. Ad esempio cavallo G8 è una mossa perdente perché giochiamo donna F3. Quindi minacciamo subito scacco matto come vedete e inoltre la torre in A8. Quindi qui la partita è da abbandono. E in effetti dopo E5 l'unica mossa che regge per il nero è quella di giocare a Rocco. Ma dai siamo sinceri chi è che vi gioca a Rocco in questa posizione? Ma anche se lo giocassero qui sareste comunque in vantaggio. Dopo infatti pedone per cavallo, alfiere per pedone. Qui possiamo giocare a Rocco. Abbiamo un pezzo in più. E' vero il nero ha un po' di compenso con questi pedoni ma a gioco corretto il bianco dovrebbe vincere. Quindi ritornando alla nostra posizione dopo D4 ci rimane ancora la mossa a Rocco che questa è la quarta mossa più giocata in assoluto. Ma anche qui abbiamo subito partita vinta dopo pedone per E5 e su cavallo G4 giochiamo alfiere F4 per difendere il pedone. E qui il nero non può fare assolutamente niente. Abbiamo già più 2 di vantaggio. Ad esempio pedone D6 seguiamo la linea principale. Segue pedone per D6, dopo alfiere per D6, alfiere per D6. Andiamo a semplificare il gioco. Dopo donna per D6, cavallo D2 con un ottimo gioco per il bianco. Più 2 di vantaggio infatti. Quindi come vedete abbiamo analizzato in questa posizione le prime mosse più giocate ovvero D6 e per D4, cavallo per D4 e a Rocco. Sono tutte mosse perdenti. L'unica mossa che salva il nero in questa posizione è pedone D5. Questa è l'unica mossa buona che il nero ha. È comunque difficile da giocare se non si è studiato l'apertura con il motore. Ma anche in questo caso comunque il bianco ha un buon gioco. Ad esempio dopo pedone per D5 già qui il nero deve stare molto attento. Perché? Perché cavallo per D5 è completamente sbagliata. Giochiamo donna C4. Minacciamo di guadagnare subito un pezzo. Anzi guadagniamo subito un pezzo. Perché attacco doppio sui due cavalli. Ecco quindi che l'unica mossa buona qui per il nero è quella di giocare cavallo per D4 e segue una linea forzata dopo cavallo per D4, pedone per D4, alfiere G5. Anche qui di nuovo il nero deve per forza arroccare perché ad esempio cavallo per D5 è perdente. Dopo alfiere per D5, donna per D7 scacco matto. Quindi veramente il nero deve essere molto molto preciso in questa linea. Vi assicuro che arriveranno un sacco di vittorie per voi se doveste giocarla. Ma il bello non è finito qui. Perché abbiamo detto che dopo la mossa A4 qui il nero ha anche la possibilità di giocare torre B8. Vediamo cosa dobbiamo fare in questo caso. In questo caso andiamo a giocare pedone per B5 e dopo pedone per B5 giochiamo cavallo C3. Mettiamo quindi subito pressione al pedone in B5. A questo punto il nero giocherà pedone B4. Noi rispondiamo con cavallo D5 e dopo cavallo per D5 giochiamo alfiere per D5. Qui stiamo molto bene. Il bianco è comunque preferibile. Quindi sono varianti che voi vi ritroverete molto spesso. Perché? Perché dopo infatti la mossa A4 ovviamente esistono solo due mosse qui. B4 e torre B8. Le abbiamo già analizzate entrambe. La mossa pedone per A4 non è buona perché dopo alfiere per A4 giusto per mostrarvi una variante. Poi ovviamente se volete analizzatela anche da soli con il motore. Dopo ad esempio arrocco arriva alfiere per C6. Dopo pedone per C6. Cavallo per E5. Abbiamo un pedone in più. Il nero si ritrova con due pedoni doppiati. Quindi un ottimo gioco per il bianco. Ricapitolando quindi dopo E4, E5, cavallo F3, cavallo C6, alfiere B5. Questa è la mossa migliore. A6. Giochiamo alfiere A4. Qui di nuovo il nero deve giocare la mossa più giocata come vedete anche nel database cavallo F6. Noi rispondiamo con donna E2. E qui dopo B5, alfiere B3. La mossa più giocata è alfiere E7. Questa l'abbiamo già analizzata. Ma vediamo ad esempio anche un'altra mossa che può essere D6. D6 è comunque molto giocata. Qui continuiamo lo stesso con pedone A4. E di nuovo qui il nero deve stare molto attento. Infatti dopo pedone per A4 abbiamo già un ottimo vantaggio. Dopo alfiere per A4 mettiamo pressione sul cavallo in C6. E vi assicuro che qui il bianco a gioco corretto ha già vinto la partita. Dopo ad esempio alfiere D7. Giochiamo donna C4. Attacco doppio sul cavallo in C6. L'unica per il nero è quella di giocare cavallo B8. A questo punto arriva cavallo G5. Mossa devastante. Stiamo minacciando scaccomato in una mossa. Quindi il nero si deve parare ad esempio con donna E7. E segue donna per C7. E qui di nuovo la partita è da abbandono ragazzi. Ecco quindi che dopo A4 il nero qui deve giocare pedone B4. Ma anche in questo caso abbiamo una mossa fantastica che ci permette di passare subito in vantaggio dopo alfiere per F7. Incredibile no? Quindi sacrificiamo un pezzo. Re per F7. Donna C4. Riprendiamo subito indietro il pezzo. Ad esempio re 8. Donna per C6. E il nero perde anche la torre in questo caso. Se non sta attento. Quindi deve fare alfiere D7 chiaramente. E noi giochiamo donna C4. Qui di nuovo un ottimo vantaggio. Abbiamo un pedone in più e il nero ha perso l'arrocco. Beh ragazzi cosa dire? Rimane solo da provare questa apertura. Vi assicuro che è un'apertura eccellente poiché piace tanto anche al motore. Quindi il bianco non è mai praticamente in svantaggio. Giocando proprio anche le linee migliori. È un'apertura che sicuramente vi farà divertire tantissimo perché come avete visto è piena di trappole. E non rimane altro che provarla. Grazie a tutti per la visione di questo video. Vi ricordo di lasciare like. Iscrivetevi al canale. Ciao e alla prossima.